Si sono conclusi i lavori di tinteggiatura nella scuola statale dell'infanzia Fornaci di Via Verziano. I lavori, iniziati durante le vacanze natalizie, hanno consentito di realizzare un altro tassello dell'ambizioso progetto dell'assessorato alla scuola del comune di Brescia, che comprende la riqualificazione degli edifici scolastici con il sostegno di sponsor di grande rilievo e con l'aiuto prezioso di volontari che hanno fornito la propria mano d'opera. Entusiasti i bambini presenti, che alla domanda del sindaco su come avessero trovato la loro scuola al termine dei lavori, hanno risposto con un significativo finalmente vestita. Al termine della cerimonia abbiamo ascoltato Giorgio Becilli, dirigente dell'Istituto Comprensivo Sud 2, Roberta Morelli, assessore alla scuola e Emilio Del Bono, sindaco di Brescia. Certo, già avevamo potuto apprezzare l'intervento ai lavori di ritinteggiatura e ripulitura della scuola dell'infanzia Chizzolini, che fa parte sempre del nostro istituto comprensivo. Oggi abbiamo di nuovo la possibilità di vedere come anche presso il plesso Fornaci abbiamo raggiunto il risultato di una riordino, riverniciatura, eccetera. Non posso che esprimere l'apprezzamento e il ringraziamento nei confronti dell'assessore all'istruzione del sindaco e di tutta l'amministrazione. Ho già avuto modo altre volte di dire come possiamo apprezzare questa amministrazione per la sua capacità di puntare al risultato, di reperire risorse anche quando non è facile reperirle e di andarle a reperire anche attraverso sponsorizzazioni, volontariato e così via. Quindi il ringraziamento non solo è doveroso ma sicuramente viene, come dire, spontaneo da parte mia. Oggi abbiamo riconsegnato la quarta scuola che è la scuola dell'infanzia di Fornaci. Il lavoro è stato reso possibile grazie all'intervento dello sponsor che è il colorificio astrale. Quindi io ringrazio davvero in modo sentito Giovanni Riva per la grande sensibilità che ha dimostrato perché quando gli ho prospettato il progetto immediatamente si è messo a disposizione dicendo che avrebbe dato tutto quello che serviva, quindi le vernici, le tempere, quindi ha reso possibile risistemare questa scuola che adesso è veramente bellissima, accogliente, allegra. Il lavoro è stato realizzato grazie a Dignità e Lavoro che è un'associazione del terzo settore che è stata creata con il compito di dare il lavoro a persone inoccupate o disoccupate. Cerro Torre ha coordinato i lavori, una cooperativa, e Sunny System ha provveduto poi alla Polizia Generale. Quindi con queste belle sinergie a sistemare la quarta scuola, questo da agosto, e credo davvero che sia un grandissimo risultato. Per cui io devo ringraziare, rinnovare i ringraziamenti al colorificio astrale, Sunny System, Dignità e Lavoro Cerro Torre per questa bella opera che tutti insieme continuiamo a portare avanti. Sì, è bella questa espressione, il colore è come un vestito. La scuola aveva bisogno di un restyling interno, è stato fatto, è stato fatto secondo questa novità assoluta che abbiamo messo in capo, cioè una filiera di cose intelligenti. La collaborazione di questo sistema che abbiamo messo in campo, che si chiama Dignità e Lavoro, che utilizza casse integrati, persone in mobilità e inoccupate di lunga durata, che trovano finalmente qualche soldo da guadagnare dentro un meccanismo di collaborazione con la pubblica amministrazione e contemporaneamente una fissata dai dirigenti scolastici insieme a noi. La cosa funziona, ormai siamo alla quarta scuola, fra poco inaugureremo la quinta di questo lavoro di restyling, andremo avanti in questa direzione. Con risorse modeste riusciamo a fare delle operazioni che per anni non sono state fatte. Grazie.